Ci ha messo in grande difficoltà, noi eravamo una squadra in piena emergenza e diciamo che il Mert ha avuto le occasioni più importanti di questa partita e diciamo che è stato molto importante. Abbiamo avuto un problema muscolare, dopo il dieci ore della partita adesso c'è la dolore, però speriamo che non sia nulla di grave perché adesso in una settimana abbiamo perso tre difensori e quindi speriamo di recuperare il più possibile gente per questa volta. Perché la stessa concentrazione della partita? No, assolutamente derivamo da... questa è la terza partita di una settimana arriviamo da tutte le stesse difficilissime, ma secondo me abbiamo speso tantissimo e c'erano tante miei compagni che magari era il tempo che non duravano 90 minuti e c'era gente che magari come Gigi e Benzella avevano fatto la preparazione con la squadra e quindi i compagni avevano una difficoltà però io penso che l'approccio di me e dei miei compagni è stato come gli altri partiti non siamo stati incapaci di fare il nostro gioco e ovviamente è stato bravo alla Venezia da credire di partire con tanta grinta e tanta pettina Sono felice, anche se non ci prendo un rete del gol e farne duro perché è normale che quando prendiamo un gol un difensore si sta preoccupando però oggi secondo me c'è stato un super ragazionatore da parte delle parate che secondo me ci si è grazie